mi tengo buono solo il punto mi tengo buono solo il punto perché oggi non è stata una bella partita dobbiamo essere onesti da entrambe le parti e loro hanno avuto sì quell'occasione con un grandissimo intervento di Venturi però diciamo che non è stata una bella partita noi purtroppo non abbiamo fatto un tiro in porta siamo stati sempre un po' secondi sul pallone eravamo lenti, prevedibili non riuscivamo mai a fare un'azione per andare in porta oggi è stata una partita un po' ma da entrambe le parti due squadre che proprio una partita non sa di niente diciamo una partita che va bene solo il punto che comunque si smuove la classifica ti porta a nove punti che non è poco onestamente frutto di tre vittorie di due vittorie di tre pareggi e tutto sommato diciamo che è un ottimo bottino insomma quindi sono soddisfatto queste partite in altri anni le avresti perse basta vedere l'azione del campo basso l'unica che ha avuto che è stato bravissimo Venturi in altri anni forse avresti perso clamorosamente una partita da 0-0 sputata infatti anche loro alla fine non si muovevano più perdevano tempo perché alla fine il pareggio andava bene entrambi una brutta partita una brutta partita che ci può stare ci attende adesso un trittico con martedì a Ria ad Arezzo poi rigiocheremo in casa non mi ricordo contro di chi diciamo ecco partite su partite però continuo a ribadire che a questa squadra manca un centro avanti a questa squadra manca un puntone davanti che dia una mano a Tommasini che dia una mano a Giovannini che dia una mano a tutti a Durzi è vero che ci manca ci manca a Di Massimo questo è ovvio però a noi ci manca una punta struttura anche un Bernardotto per dirvi un attaccante di quel calibro secondo me Tommasini è lasciato così mi sembra un po' solo nel senso che io per carità per me quello che fa il mister è legge assoluta perché per me è un grande questo senza un grande dubbio però secondo me al mister gli manca proprio un centro avanti grosso strutturato che tiene palla come un Cianci per la Ternana ad esempio che sta segnando proprio a a dagli giù proprio in continuazione quindi un puntone grosso che ti cambia la partita in partite così magari ti stoppa la palla e in visto Di Nardo che ha fatto quell'intervento che ha preso il palo o la baratta di Venturi non mi ricordo questi questi puntoni grossi che ti possono cambiare la partita ti vengono palla ti fanno salire la squadra o magari si inventano il gol in una partita magari queste partite un po' così spente all'improvviso si accendono e ti fanno il gol per me il Gubb è una gran bella squadra che però parere mio gli manca il centravanti di peso che possa aiutare Tommasini che è un ottimo giocatore Giovannini che vedrete che è un veramente un bel giocatore Dursi vabbè non stiamo qua a dire Dursi chi è e poi ovviamente il rientro di Massimo però ovviamente come detto e ribadito a questa squadra manca un centravanti dicevo comunque il mister Taurino ha fatto vedere veramente una solidità difensiva importante una sola rete subita su cinque partite è veramente una cosa importante ha proprio costruito nel dettaglio la fase difensiva dobbiamo migliorare davanti davanti dobbiamo veramente camminare 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 perché ovviamente i ragazzi in questo momento sono in un momento di difficoltà però è normale sono giovani manca di Massimo perché dobbiamo dire che Taurino ha perso di Massimo dopo dieci minuti della prima partita quindi diciamo che siamo stati anche molto sfortunati però io spero che a gennaio la società intervenga per prendere un centravanti che possa aiutare Tommasini che possa aiutare Giovannini che possa aiutare Dursi di Massimo che possa in qualche modo darti quel peso che si vede che i ragazzi provano a fare quel tipo di gioco tenere palla per far alzare gli esterni e dargliela per incontropiede però in questo momento stanno facendo un po' di difficoltà nonostante che stanno giocando tutti stanno dando tutti il massimo ovviamente per come sono per com'è il momento quindi gambe pesanti siamo all'inizio della stagione però ecco siamo a nove punti come ha detto il mister in conferenza stampa dobbiamo migliorare tanto io sposo in pieno la sua totale discussione quello che ha detto sono sposo in toto perché è così e niente ragazzi io vi mando un saluto Gubbio Campobasso 0 a 0 ci vediamo martedì per la partita infacettimanale contro l'Arezzo iscrivetevi al canale lasciate un commento mi piace dite la vostra qua sotto e ci vediamo per un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti